Beh, insomma, con il regolamento, quando si mette la fiducia, cosa che ovviamente accadrà, insomma, i tempi saranno molto ristretti, ma certamente quest'anno non c'è stato neanche il tempo, diciamo, di leggerla tutta quanta, il che ovviamente è in profondo, è vero che ci sono state altre volte in altre legislature, però questa volta veramente si è esagerato, diciamo, tempi assolutamente ristretti che sono dovuti al fatto che sono stati fatti alla Camera tanti pasticci, quindi c'è stato, si è perso molto tempo perché il governo che diceva che era pronto, in realtà proprio pronto non mi pareva fosse. Una cosa che proprio non piace a questo Parlamento? Ma l'accanimento contro chi sta in difficoltà, per cui di fatto l'annullamento del reddito di cittadinanza è, credo, la cosa più grave, a favore del fatto che invece si favoriscono quelli che le regole non hanno rispettate, e pensiamo ai tanti condoni di fatto fiscali, insomma, e hanno provato anche il condono della sanatoria penale.